L'opera indubbiamente più significativa della scuola di Francoforte in generale e di Adorno e Orkheimer in particolare è Dialettica dell'illuminismo, che è un'opera che viene immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, un'opera del 1947. In quest'opera i due francofortesi coniano un concetto assolutamente inedito di Aufklärung, di illuminismo, nel senso che emancipano il concetto di illuminismo dalla sua decodificazione storiografica, cioè per Adorno e Orkheimer l'illuminismo non definisce più una certa età della storia della filosofia moderna che, come direbbe Kant, ha contribuito a emancipare la ragione umana dalla sua condizione di minorità, quindi dalla superstizione, dall'oscurantismo religioso, dalla metafisica in generale. Adorno e Orkheimer decostruiscono il concetto di illuminismo e lo propongono in una forma assolutamente innovativa. L'illuminismo di Adorno e Orkheimer non definisce dunque più un periodo storico determinato, quello dell'età dei lumi, dell'illuminismo soprattutto francese, ma definisce la storia stessa della ragione occidentale dai suoi primi miti ad oggi. E quale sarebbe il filo rosso che collega tutta la storia del pensiero occidentale, chiamata da Adorno e Orkheimer illuminismo? Quindi noi siamo nel tempo dell'illuminismo, poiché l'illuminismo non è una parentesi storica, ma è la storia dell'Occidente. E quale sarebbe il denominatore comune di questa storia? Sarebbe l'autorizzazione, diciamo così, del dominio della ragione umana sulla natura. Allora, ciò che ha contraddistinto la ragione occidentale è l'esercizio di un vero e proprio dominio, dominio epistemico, dominio tecnologico, dominio politico dell'umano sulla potenza della natura. Questo dominio troverebbe una sua configurazione, una delle sue prime configurazioni mitologiche nella figura di Ulisse, di Ulisse che è padrone in fondo dei grandi misteri della natura. Celebre l'analisi che in dialettica dell'illuminismo viene fatta di Ulisse nei confronti del canto delle sirene. L'astuzia di Ulisse riesce a godere di questo canto, ma al tempo stesso di esercitare una padronanza sulla tentazione che le sirene rappresentavano attraverso lo stratagemma del farsi legare al palo della nave e nel mettere la cera nelle orecchie dei suoi compagni di navigazione. Ma il punto è che questo dominio della ragione sulla natura, quindi della ragione che i francofortesi definiscono strumentale e pragmatica, della ragione che non pensa più alla verità, che non pensa più marxianamente a rendere la società più giusta, la società più vicino, diciamo così, alla verità, nel combattere le diseguaglianze della società. Dunque una ragione che non si occupa più della verità, ma si occupa di esercitare il suo dominio sulla natura e di fare della natura, come dirà Heidegger, negli stessi anni fondamentalmente solo un luogo di risorse da sfruttare. Quindi questa dimensione antropocentrica della ragione illuminista, così come viene descritta da Orkheimer e Adorno, porta con sé la conseguenza di una seconda natura. Il dominio della ragione sulla natura, produce nell'uomo una seconda natura che tende a separare l'uomo dalla stessa natura. Se volete la rappresentazione conformistico, borghese, robotica, amministrativa dell'uomo che si è, come dire, allontanato, perso e alienato in una corazza, appunto la seconda natura, da il suo contatto mitico, primario con la natura. È in questo contesto che va presa la celebre analisi dell'industria culturale, perché l'industria culturale è esattamente un prodotto della ragione illuministica di questa seconda natura, cioè un grande francofortese, sebbene in una posizione molto originale rispetto alle scelte dell'istituto di francoforte, come Benjamin, ha scritto in quegli anni un libro di straordinaria importanza dal titolo L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Ecco, la riproducibilità tecnica dell'opera d'arte implica necessariamente un fenomeno di massificazione, di mercificazione, di despiritualizzazione dell'opera, che fa perdere all'opera la sua potenza critica. Ma questo si può intendere solo se si coglie il significato della seconda natura. La seconda natura è una forma di imprigionamento, di alienazione, di seconda alienazione della vita umana che resta vittima della sua stessa ragione strumentale. E rispetto a questo imprigionamento, nella dialettica dell'illuminismo, si evocano la figura dell'ebreo e la figura della donna come le uniche due figure che sanno mantenere e preservare il valore dell'erranza, della libertà, sono le uniche due figure sulle quali la ragione strumentale non ha potere e deve mostrare, diciamo così, la sua insufficienza. L'ebreo e la donna sono due nomi della libertà. Grazie a tutti. Grazie a tutti